eccoci qua ragazzi con l'ultima apertura per oggi il primo strato si toglie bene bene e il secondo lascia un po' desiderare rosa l'indizio ci dirà come al solito molto non mi sento che è una doppia l'indizio non l'ho visto ragazzi vediamo se c'è zecco esatto l'indizio è quello egiziano diciamo come quello lilla come montagne come quella della lolle lilla oddio spero ci sia tantissimo lo e si chiama in bb che sarebbe quella dell'opposite club che potrebbe anche cambiare colore speriamo perché con questo indizio si può trovare lei cioè se ho trovato anche lei cioè ragazzi vado a giocare a super enalotto era meglio che giocare a super enalotto con questo che trovare 5 lol così no sinceramente preferisco giocare lol anche se potrei vincere visto la fortuna di questi giorni allora vediamo un pochino allora no io chiudo gli occhi è attivato il video si chiudo gli occhi ragazzi eh vedetelo prima voi sto con gli occhi chiusi dunque il biberon che bisogna sento che è un cartone del latte però il colore di quella che cerco io è tutto nero il biberon e allora insomma aprire apri gli occhi e purtroppo per te non è quella che volevi è il cartone del latte ma il colore è giallo e blu e rosso noееh è quella brutta ne ho messo sempre trovate una differena mettiamola guì così e quindi andiamo a vedere adesso come è fatta questa lol ecco qui ah queste scarpine rosse appunto eccola qua ma lei in america esce con l'involucro tutto come si chiama trasparente ma io penso che in America avranno altri stili di apertura visto che Youtube America è una cosa a parte rispetto a Youtube Italia questo è il suo vestito sembra tipo una artistica e infatti fa parte del pop club allora io invece ero convinta fosse l'altra però vabbè questa non mi piace e questa sembra un cubo di Rubik sì più o meno allora qua cosa abbiamo un ciuccio no no si attacca tutto eccola qui ciuccino bianco esatto e poi andiamo a vedere lei oh poverino gli ho staccato la testa eccola qua ha la stessa pettinatura di sarà un babe dove farò una però non mi piace e ancora mi si stacca la testa facilmente vediamo cosa può fare lei allora a me personalmente non mi sembra così malvagia ti piace? devo vedere la vestita è proprio brutta dai cioè ce n'è ben di peggio dai ma veramente secondo me io pensavo tanto fosse lei questa invece no tra l'altro ragazzi neanche farlo apposta abbiamo completato il club del poppa dell'art club insomma vabbè a parte quello della terza voiva vabbè non c'è adesso ancora quindi l'abbiamo praticamente completato allora vediamo shapes può cambiare si può sputare dalle orecchie o o piangere vediamo piange infatti vedete ha buchini aperti negli occhi esatto oddio mi speravo fosse vabbè ragazzi adesso la vestiamo eccola qua tutta vestita sembra proprio un cubo di rubik anche i capelli esatto e il biberon lo mettono in risalto e niente ragazzi anche per questo video abbiamo finito esatto e ci vediamo al prossimo video unboxing esatto come al solito iscrivetevi like e instagram che trovate in descrizione ciao